Questa notte da mezzanotte, se le previsioni saranno confermate, Limosi tornerà di nuovo in funzione per salvare ancora una volta Venezia dalla qualta. Il Servizio di Protezione Civile del Comune ha infatti segnalato che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un nuovo bollettino per un vento forte previsto lungo le coste sulla pianura di Mitrofed le ore 20 di questa sera fino alle ore 8 di domani. Domani mattina alle ore 6.30 è annunciato a Venezia un picco di marea di 130 cm sul medio mare, variabile anche a causa del forte vento. Saranno perciò attivate le barriere gialle per tenere Venezia rasciutta. Così già ieri aveva spiegato ai nostri microfoni Alvise Papa, direttore del Centro Marea del Comune di Venezia. Da sabato 4, il passaggio di un nuovo impulso perturbato innescherà dei venti di scirocco per tutta la notte, portando il livello della marea la domenica mattina su valori prossimi a 135 cm. Dopodiché la pressione dovrebbe cominciare a salire e darci qualche giorno di pausa. Dopo il picco di domani mattina, il resto della giornata domenicare dovrebbe scorrere più tranquillo, senza altri allarmi meteo. Per lunedì mattina, invece, è previsto un picco, anche se inferiore a quello di domani, a quota 110. Resta la raccomandazione di attuare tutti in comportamenti le precauzioni impartite dal Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile e di consultare le previsioni meteo sui canali ufficiali e nel sito del Comune di Venezia.